Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Spinal Nello scorso episodio ragazzi abbiamo proseguito la nostra avventura Arrivando fino alla nuova città e affrontando per tante virgolette la capopalestra nostra insaputa Perdendo miseramente Nello scorso episodio avevo anche detto che avrei allenato un secondo membro da inserire nelle squadre Quindi ragazzi date il benvenuto Oh ho sempre sognato di farlo A Tile of ragazzi che è un pochino incazzato Però vabbè dettagli L'ho portato ragazzi fino al livello 9 come adesso vi mostrerò Oltre non sono riuscito ad andare perché il fangame è molto lento Comunque penso che basti per affrontare la capopalestra Mi raccomando se la serie vi piace lasciate tanti bellissimi mi piace per vederla ancora sul canale E in generale per vedere tanti video magari su altri fangame in demo Magari ogni tanto piazzati lì Detto ciò direi di avviarci verso Lisa Comunque non penso che Tile of sia sufficiente per batterla ma poi con l'aiuto di Froki dovremmo farcela Questa città è così noiosa Ma tanto li abbiamo già detto questi dialoghi raga qual è il problema Comunque non so se notate ma sono tornati i video alle 21.20 di sera Perché dovevo fare veloce quindi con la facecam con qualità 0 Ok perfetto Samiri City non mi ricordavo il nome della città Ok perfetto Quello snive lì poi raga ho scoperto siccome poi ho provato a riaffrontarla di giorno per vedere se cambiava qualcosa Quello snive lì è così solo di notte Di giorno è normalissimo Non si sa perché è uno snive in mannaro Comunque snive livello 13 Allora il nostro Tile of dovrebbe essere in grado di fargli abbastanza male E con l'ausilio di una o due pozioni dovremmo essere in grado di fargli abbastanza male Vai lui Certo che però poi io vedo ste cose qua Non devo incazzarmi mi dicono Mi dicono che non devo incazzarmi Critical Va che no a parte che ho vissuto di critical per i primi due episodi Quindi ci sta Sto già morendo Ok Non doveva andare così in teoria Però dettagli Ho un'unica pozione perfetto Moriremo sicuramente ragazzi Cioè boh oddio in realtà Basta che non criti No wrap No aspetta Ok no minchia Pensavo fosse un'altra mossa Vabbè dettagli Ok perfetto Allora In teoria una beccata dovrebbe bastare Ma anche no mi sa Vediamo un po' Spero che non utilizzi una pozione questa Perché altrimenti saremmo fottuti raga Ok wrap mi fa malissimo tipo Quick attack Ok Dovremmo avercela fatta in teoria Anche solo con Tile of Mamma mia che potenza questo pokemon raga Lo so che nello scorso episodio avevo detto Eh Tile of non lo voglio prendere Sti cazzi l'ho preso raga Anche perché se tipo avessi preso si guado Ce l'ho messo due giorni ad allenarlo Cosa? Questa battaglia non conta Aspetta Ok perfetto Che infame tra l'altro Ehm Zilus Non so cosa voglia dire Solo ci sono andato un po' Con un po' troppo zelo Possibile Non lo so Ho pensato Considera questa battaglia Un riscaldamento Ehm Non ero nemmeno nel mio Ha game Che non so cosa voglia dire Cosa succede? Snivy che cosa? Non è snivy Qualcosa lì Te lo ric... Eh no però Se hai voluto inservare Quel coso lì Non è servain Sembra tipo un coso Con un rastrello Raga guarda Guardatelo È orribile Ok se hai voluto inservare Eh Sì però bestemmio Cioè mo mi dovrei allenare di nuovo Spiegami Spiegami Dovrei allenarmi di nuovo Io ovviamente raga Provo ad affrontare la palestra Utilizzando come allenamento Gli allenatori E Portando Tylova A livelli allucinanti E poi vedremo Come andrà a finire Spero bene Però non ci conto Nemmeno più di tanto In questo episodio Probabilmente ci dedicheremo Solo a questo Quindi alla battaglia in palestra Prendiamo un po' di pozioni Se no Altrimenti Perdiamo malissimo Prendiamo le 10 Per l'esattezza ragazzi Perché ne abbiamo bisogno Rimaniamo con 38 pochi dollari Pocco Attenzione al gioco di parole raga Voluto ovviamente Non è che mi sono inceppato 38 pochi dollari Con i quali andremo orgogliosamente A fare la fame in centro A Milano Ok Perfetto ci siamo Buonasera Ciao campione Minchia campione Ah campione in costruzione Tipo Sono Clyde Un Claydol Raga perfetto Ok Utilizza pokemon Di tipo Erba E debole Contro qualsiasi cosa esistente In questo mondo Ecco A saperlo avrei preso Fennekin Nonostante mi faccio schifo Le sue evoluzioni Dato che di evoluzioni Non ne otterremo E dato che la palestra Di tipo erba Prenderò tante di quelle botte Che alla metà bastano Comunque Primo allenatore raga In teoria loro dovrebbero essere Più o meno facili Da battere Padre figlio Padre figlio Spirito santo Non ci credo neanch'io Pan Sage Livello 11 Ok perfetto Tylof è il tuo momento Vediamo un po' cosa riesce a fare Allora in teoria Livello 10 contro Livello 11 Tylof dovrebbe Più o meno Riuscire a vincere Spero di arrivare Verso la palestra Con i pokemon al 13 Almeno Tylof Così almeno raga Siamo a posto Prendiamo due botte Ma le prendiamo con onore Le botte ragazzi Ok perfetto Adesso ci manca un quick attack E poi dovremmo essere a posto Pan Sage Utilizza Scratch Tra l'altro mi ricorda Trantissimo la palestra Di quinta gen Con spighetto raga Non a caso il gioco È ostato dalla quinta gen Se vogliamo 2-2-5 Livello 11 Perfetto Forse quasi il 12 Beh beh quasi 12 Un parolone Però non c'erano Troppo lontani Attenzione Breeder Jackson raga Lo ricordavo cantante Sto Michael Ok Ok minchia Meno male che Meno male che ci sono Altri allenatori raga Perché devo affrontarli tutti Sennò perdo tantissimo A sto punto raga Tylof lo portiamo Al livello Al livello più alto possibile E poi nel prossimo episodio Allenerò Froki Non è che ho molta scelta Ok Kaknea Perfetto Tra l'altro Il livello 7 Questo qua è molto più abbordabile Potrei addirittura One shotarlo raga Sarebbe anche utile Imparare ad attacco dalla Sai Tylof Non sarebbe per niente Ma no minchia Se mi avveleniti Non posso urlare Non posso urlare Non posso Non posso urlare Non posso urlare Che sera Non posso urlare Guarda che merda Guarda che merda Mi va via pure la voce raga Attenzione Veramente Oggi ho registrato Come un dannato Non ho fatto altro Che registrare E parlare Poi tra l'altro Come se non bastasse Ok Fermi Zrumish Allora Non ho neanche un antidoto Ora che ci penso Quindi mi conviene Mandare sincro Raga E poi dopo Mi vado a curare Non ho molta scelta Allora Vai sincro Il tuo momento Fammi vedere Di che pasta Sei fatto Io So che tu puoi farcela Tutti i tuoi critical Ce li ho ancora nel cuore Morirà sicuro Morirà sicuro Eh minchia Non gli faccio una sega Non gli faccio Neanche impegnandomi Quanto mi togli Quanto mi Eh ma cazzo Allora Proviamo a indebolirlo Il più possibile Con frochi E poi raga Proviamo a dargli Un colpo di grazia Con beccata Pregando con una divinità Oddio che culo godo Ti prego Axami sta paralisi Axami sta paralisi Ok no Però fate i call Perché è un po' Un po' Un po' Deficitario nella mente Ok Bubble Vediamo un po' Quanto riusciamo a fargli Dai rimani paralizzato Rimani paralizzato Rimani paralizzato Vaffanculo Come la netta sensazione Che perderò Oddio Però adesso ci avrei Aiuto fuoco Aiuto Aiuto fuoco Se Aiuto acqua Che Volendo potrebbe Darmi una mano Ok Gli ho tolto abbastanza Axamela Non axa Non axa neanche per sbaglio Raga Ma minchia Axa Dico Una volta Axami sta cavolo Di paralisi No Niente da fare Solo contro di me Ok Tra l'altro Spero che questo sia Il suo ultimo pokemon Se no veramente sono fottuto Cioè ho perso Allora Vai Tylove È il tuo momento Fammi sognare Però prima drogati Con una bella pozione Se no qua non andiamo più amanti Forse avrei Dovuto Farmi furbo E pozzarlo Come direbbe Un certo youtuber Prima di affrontare Il secondo allenatore Comunque un saluto a Tia Cognatore di grandi termini Peck Vediamo un po' Se riusciamo a mandarlo giù Vediamo un po' Olè Perfetto Madonna raga Tylove mi sta già piacendo Ecco perché lo sceglievo Sempre un po' con Smeraldo Effettivamente Non ci avevo mai pensato Forse è forte Ok Sconfitto Breeder Rumi Sconfitta Breeder Rumi Perché fino a prova contraria Oddio che figa Cioè no Non è molto figo Perché sta muorendo Però Ci sta un botto raga È tipo fluo Ok Perfetto Mi sa che Lo screen della parte Sarà intanto Entriamo di lato Al centro Lo screen della parte Sarà Tylove O fluo raga Che figata Ok perfetto Prendo i tuoi pokémon Per un po' di secondi Tylove vedete che si risana Senza andare Ok perfetto Senza andare all'interno Della macchina Dell'infermiera Joy Ok perfetto Allora abbiamo battuto Due allenatori Ma direi che possiamo Non prenderli Gli altri antidoti Anche perché forse Non c'ho ancora i soldi Allora affrontiamo Gli ultimi due allenatori E poi affrontiamo La palestra La capo palestra Più che altro La palestra La stiamo già affrontando Creepy Sta impazzendo Sì sto impazzendo Ragazzi perché sto morendo Dentro la mia gola Non esiste più Cottoni Perfetto Ole Mandiamo giù un po' di saliva Perché ragazzi Avevo l'acquolina in bocca Nonostante io abbia appena Nonostante io abbia appena mangiato Pack Vediamo un po' se riusciamo A buttarli giù Almeno metà vita Dai Ole Magari fai una mossa inutile Vabbè Fairwind fa abbastanza male Infatti Tra l'altro Ok vuol dire che Il folletto c'è In questa gen Effettivamente è la sesta Cioè ci sono i pokemon Fino alla sesta Quindi ha senso Ok perfetto Io che me lo chiedo anche Raga Sparatemi Perfetto Cottoni livello 10 È andato giù Penso sia il suo unico pokemon Sinceramente Essendo a livello 10 Ok Allora ci manca un altro Allenatore ragazzi E poi palestra Io tipo Padre figlio Spirito santo Ci conviene Tra l'altro Se è evoluto in servain Cioè non penso che sia A livello 17 Penso che comunque sia Tipo Un'evoluzione di servain Cittata Cioè perché se è a livello 17 È finita Veramente Fongus Livello 7 Ok perfetto Tipo lo schema della palestra è Livello 10 Livello 10 Livello 7 Livello 7 Livello 10 Madonna raga Veramente sono Uno schematico Perfetto Veramente La laurea La laurea Dov'è la laurea Absorb Non dovrebbe farmi molto Sono del resto Un tipo volante Ok Perfetto Prego Si ricarichi Che tanto adesso Lei muore Lei muore male Cioè mamma tantissimo Quick attack Olè Perfetto Vediamo quanta esperienza Prendo Non riuscirò mai A salire Sì raga Questa è utilissima Aspettavo La stavo aspettando Dal play Sto cene Questa è utilissima Togliamo Growl raga Che è utile Come un cesso in cucina Ok Perfetto Wing attack Questa è utilissima Non ho visto Chi deve mandare È stato un piacere Bye bye Perfetto Tra l'altro Tipo erba Ragaledi Tipo d'erba Dock Di erba Non c'ha nulla Solo quella che fuma Probabilmente Olè Allora A livello 14 Non ci arriviamo Ma ragazzi Stiamo per affrontare La palestra Consapevoli di avere Un wing attack Dalla nostra Prima Di affrontare la palestra Curiamoci Io sento di potercela fare Syncro È sfrattato Da tutti Però poi proverò Ad allenarlo Un pochino fuori parte Anche se ripeto Il gioco è molto lento E non ci riesco Ad allenare i pokemon Affrontiamo Lisa Però Allenatore Ehm You have Hai superato al meglio Le mie prove E sai che cosa c'è Ehm Ehm Ricorda Dimenticati Il Questo Scripted in italiano Non so come tradurlo Ehm È già scritto Diciamo Ehm Non so Non conosco il verbo Ehm Dimenticati questo nonsense Già scritto Creepy mi conosci Io conosco te La prima Battaglia è stata Un fluk Che non so cosa voglia dire Ma penso una scemenza Una roba del genere Ti batterò questa volta Grazie al cavolo Cioè il pokemon È evoluto Ok Questa qua è la battaglia in palestra Che bella la grafica raga Mi piace un bordello Tra l'altro Minchia Che cattiveria Raga Speriamo di farcela Ok Perfetto Parte la sfida Mi ricordo al pokewood Sta roba Parte Minchia Bulbas Livello 13 Ok vorrà dire che Servain sarà al 15 Ci sarebbe come livello In fin dei conti Penso Allora Proviamo un wing attack Subito di cattiveria Non credo di buttarlo giù Ma Un consistente Tanto danno Glielo facciamo Perdonatemi Perdonatemi raga Non so parlare Eh purtroppo avete beccato Lo youtuber sbagliato Wing attack Questo va giù Perfetto Allora uno L'abbiamo seccato Qua saliamo sì Al 14 Ragazzi Fisso Perché se non saliamo Qua al 14 Non so dove si possa salire Ok Perfetto Non ho controllato Neanche quanti pokemon Abbia Evidentemente Ne ha due Livello 15 Ok perfetto Ci ho preso Servain Non arrenderti Lo ammazziamo di botte Vine whip Non dovrebbe uccidermi Ok Perfetto Wing attack Spero ne bastino due raga Sennò sarebbe un problema Ah Cristo Dio È un problema Proviamo a fare un Ah cazzo Cos'è sta roba qua Vorticerba Leaf tornado Per forza Sarà vorticerba Ah Ah questa l'ho sentita Cosa mi diminuisce No la cura Si minchia Se fallisco Ok l'ho preso Crit up Oddio Non ci credo Non posso urlare Ma Se potessi Avrei già Spaccato il tetto Quasi livello 16 Tra l'altro Creepy è sconfitto Gym leader Lisa raga Non ci credo Vi giuro Avete visto Stavo Ero con le mani qua Non sto Non sto Non sto registrando dopo Ok Wow sei davvero forte Sei davvero davvero forte Come ricompensa Prendi la medaglia Canva Che canva Dovrebbe essere Tela Tela Dovrebbe essere Canvas Sono le Le tele Quelle dei pittori Cioè C'entrano con i pittori Non so se sono le tele Propriamente Però Boh vedremo Ora con questa medaglia Potrei utilizzare La MN Taglio Fuori dalla battaglia Teusiti Ok Teusiti è quella Che stava a destra Della scorsa città E dove c'erano gli alberelli Penso che li abbiate Intravisti all'inizio Dello scorso episodio Oh ho dimenticato Ok Ritorno Perfetto Non che ci serva molto E non che sia molto sensata Vista Vista la tipologia Di Pocon che hai Però va bene lo stesso Ok Usciamo ragazzi Perché mi sta Perché mi suona il Pokédex Vabbè Creepy Ho sentito che hai vinto La tua prima medaglia Fantastico Torna a Ornata Town E visita il mio laboratorio Qualcosa Importante da dirti Ok Perfetto Suppongo che mi debba dare taglio Sinceramente Però non lo so Tra l'altro Ornata City Qual è Fatemi vedere Perché Se è qua vicino Posso anche provare Ad andarci A Ornata City Allora Fermi Town E minchia Sta mappa qua Tutta storta Tra l'altro si ragazzi Questa è la regione Voi non l'avete ancora vista Forse Io si E nulla Molto figa Ok Perfetto È tipo A casa di Cristo Quindi direi ragazzi Che per questo episodio Finiamo con l'andare A prendere questa Fantomatica roba Visto che Mi sembra inutile Lasciare le cose a metà E dal prossimo Andremo verso La nuova città E poi verosimilmente Affronteremo la palestra Non so in quanti episodi Comunque in ogni caso Ragazzi Se non ricordo male Dovrebbero essere Solo due palestre In questo gioco Dovrebbero esserci Solo due palestre In questo gioco Di conseguenza Penso che durerà All'incirca Altri Oltre a questo Altri due episodi Massimo Se non uno Addirittura Dipende molto Da come sarà Strutturato il gioco Detto ciò Sti saltelli Tarocchi Che veramente Raga Neanche i marocchini Ok Con tutto rispetto Per i marocchini Ragazzi Ovviamente Però Si sa Si sa Si sa Che Tipo In piazza Duomo Molto spesso Vendono Vendono Cianfrusaglie Insomma Ok Perfetto Siamo arrivati Velocemente Tra l'altro Oggi Veramente Raga Non ce n'è Non ce n'è La dislessia Mi sta prendendo In una maniera Allucinante E anche se era Quindi ci può anche stare Ok Stiamo arrivando Al laboratorio Della prof Che non ho manco visto Io dall'inizio Del gioco Perché C'hai delle Oddio Prima cosa Grazie per aver risposto Alla mia chiamata A differenza Dell'altro ragazzo Che ho provato Ad aiutare In ogni caso Voglio per prima cosa Congratularmi Con te Per aver ottenuto La prima medaglia Come ricompensa Ecco taglio Scontato come la merda Veramente Ok Con questa H&M Potrai viaggiare A est di Teo City Dov'è la prossima palestra In secondo In secondo piano Ho sentito Dei Delle notizie Che ci sono alcune persone Che stanno attaccando Altri allenatori Stanno provando a rubare Il loro pokemon Creepy So che puoi prenderti Il culo Ha detto i poco Ma per piacere Fai attenzione Ma No Minchi che sbatti Speravo di Speravo di poterle ottenere Comunque ragazzi Abbiamo scoperto Che anche qua Avremo un assaggio Del team malvagio Io comunque Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così vi invito Come al solito Lasciate un bel mi piace Un commento Un'iscrizione Rispondi No Un commento Un commento Un'iscrizione E sto andando insieme Fermi tutti Un commento Rispondendo alla domanda del giorno E iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate i social In descrizione E premete la campanella Per ricevere sempre i feed Ole Ce l'abbiamo fatta Noi ci becchiamo ragazzi In un prossimo video E scusate La dislessia